BUBU Ma sta parlo che questo è così ma vabbè che è ma come che è mi viene spavurato ma il bubu del buon giorno ma qua è bubu sta c***o nooo bubu ah dai bubu questo è una st***a è una st***a che è una st***a per forza sto mangiando me viene a fare bubu bubu questo bubu ma che vuole bene Oggi sono veramente felice perché ho fatto un unboxing, adesso vi faccio sentire solo un rumore straordinario, vi faccio vedere uno spoilerino Grazie a tutti